Buongiorno a tutti, oggi è il 30 giugno 2020, quale miglior giornata di una giornata di fine mese di giugno per raccontare una storia conosciuta da molti miei coetanei, la storia di un cartone animato che è arrivato in Italia nel 1979 dalle matite di Gonagai, il mitico robot, chi è il mitico robot? Il mitico è Gig Robo d'Acciaio, arrivò con la sua musica, corri ragazzo laggiù, vola tra lampi di blu, corri in aiuto di tutta la gente dell'umanità e niente dal 1979 sarà più lo stesso. Chi è Gig il Robo d'Acciaio? Innanzitutto spieghiamo la storia, come si sviluppa, di Gig il Robo d'Acciaio, 46 episodi trasmessi in Italia che subito conquistano il pubblico dei ragazzi che già aveva visto l'arrivo l'anno prima di Goldrake e si innamora subito di questo robottone, perché anche lui è un robottone giapponese, ma è molto diverso da Goldrake, Goldrake ha l'astronave che lo fa uscire, mentre lui è il robot, è lui stesso Hiroshi Shiba, questo ragazzo amante delle corse di automobili, figlio del professor Shiba, che ha all'interno di sé la campana di bronzo, lui ancora non lo sa, ma il padre ha inserito all'interno del figlio la campana di bronzo. Cos'è la campana di bronzo? È un qualcosa che un antico popolo, il popolo Yamatai, al comando della regina Emika, un popolo ibernato sottoterra, sta per tornare alla luce in Giappone per conquistarlo, per conquistare il Giappone e per conquistare la terra, e per farlo deve impadronirsi della campana di bronzo. La campana di bronzo è stata trovata dal professor Shiba, che ha scoperto questo popolo ibernato, che sta per arrivare a combattere contro il Giappone, quindi per difendere la sua terra, nasconde la campana di bronzo, dando la sua vita nell'impresa all'interno del figlio, quindi lasciando il figlio orfano e la moglie vedova, moglie che ha anche una figlia che si chiama Mayumi, la sorellina di Hiroshi, dal carattere focoso, che ancora non capisce che lui è l'anima di questo robot. E quindi noi assisteremo nel primo combattimento di Jig a Miva, un assistente del dottor Shiba, che a bordo del suo big shooter lancerà i componenti per la prima volta a Jig, a cui sarà detto unisci i pugni, indosserà i guanti che lui usa per andare in moto, il segreto è tutto nei guanti e nella sua campana di bronzo all'interno del suo corpo. Unendo i pugni, lui si trasformerà nella testa di Jig, l'ho bo d'acciaio. Jig, l'ho bo d'acciaio poi si unirà ai componenti magnetici lanciati da la sua partner, anche diciamo spasimante, Miwa, Miwa Tamashiro, una graziosa pilota del big shooter, e lì gli arriveranno le braccia, il corpo e le gambe, e lui si trasformerà in Jig, il robot d'acciaio. Da qui la vicenda si snoderà con vari combattimenti contro l'impero Yamatai, l'impero della regina Imika, che è il nemico numero uno di Jig, il robot d'acciaio, la famosa regina bella, regina Imika, che ogni tanto invoca il suo padrone, il signore del drago con la sua cantilena, qualcuno si ricorderà? Neghini, Neghini, Nimasanucolo, Neghini, Neghini, Nimasanucolo, così invocava il suo padrone demoniaco per essere aiutata. Oltre a Imika ci sono i suoi sgherri, Ikima, Mimashi e Amaso, che sono tre alieni, diversi tra di loro, che a ondate affronteranno con le loro armate la forza micidiale di Jig robot d'acciaio. Quindi queste vicende si svilupperanno in Giappone, Jig robot Hiroshi all'inizio sarà un po' riluttante ad essere un robot sfruttato dal padre per combattere una guerra che lui non vuole combattere. Col tempo se ne farà una ragione e sarà per sempre Jig il robot d'acciaio protettore del Giappone. Quindi una vicenda bellissima che si sviluppa in 46 episodi di combattimenti di pugni d'acciaio in magli perforanti. Sì, Jig robot d'acciaio è completamente diverso da Goldrack, quindi è un robot magnetico. Quindi all'epoca andarono molto anche i vari giocattoli magnetici, tipo i Micronauti, che uscirono da lì a poco. Col tempo la serie Jig robot in Giappone, Kotsetsu Shinjig, il nome originale, sfociò in un sequel del 2007, nel sequel che si chiama Shinjig, Shinjig il robot d'acciaio, e ovviamente è molto più moderno della serie originale. C'è sempre il Big Shooter, c'è sempre Miwa, c'è sempre i Roshi, ci sono, ma sono invecchiati di 50 anni, perché le vicende di Jig il robot d'acciaio originale si svolgono 50 anni prima, mentre le vicende di Shinjig si svolgono 50 anni dopo. Quindi noi vedremo Kenji, Kusaraji, che sarà il nuovo pilota di Jig robot d'acciaio, ha una moto, ha anche lui i guanti, ha anche lui le due campane di bronze, unendo i pugni, insieme alla moto, con la moto, formerà una testa di un altro robot completamente molto simile, ma diverso dal Jig originale, e poi ci sarà sempre la partner femminile Tsubaki, molto carina anche lei, come era Miwa ai suoi tempi, Tamashiro di cognome anche lei, perché è la nipote della Miwa di 50 anni prima, e noi vedremo una Miwa invecchiata, un Hiroshi invecchiato, perché poi entreranno anche loro in azione, perché la regina Emika, che la maggior parte di voi credeva morta nella prima serie del 1979, non è morta, ma è viva, e ritornerà a insidiare il Giappone col suo esercito, con i suoi sgherri, Ikima, Mimashi e Amaso, in un tripudio di pugni, laser, missili, e quant'altro, e combattimenti vari all'interno del Giappone, e nei cieli del Giappone, una miniserie di 13 episodi, bellissima, in italiano, si può trovare in DVD, che è la naturale serie, continuazione della serie, e che invito tutti a guardare, che invito tutti i fans di Jig, il robot d'acciaio, a guardare, anche se molti saranno innamorati della prima serie, che è quella, che ha fatto innamorare tutti, G, il robot d'acciaio, e lui corre sempre, in aiuto, di tutta la gente, dell'umanità, Corri e va, un saluto da Duke65, ciao G, G. 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 G.